benvenuto al video relativo ai cinque errori da evitare quando cerchi incarichi professionali tramite bandi pubblici la ricerca di nuovi incarichi professionali come consulente deve prendere in considerazione anche le opportunità che offre la pubblica amministrazione quest'ultima si rivolge al mercato privato dei consulenti pubblicando bandi specifici il consulente che vuole crescere e assicurarsi un costante flusso di opportunità professionali non deve assolutamente ignorare la pubblica amministrazione questa attività di ricerca e di monitoraggio dei bandi pubblici richiede al singolo professionista molto tempo pazienza capacità di individuare gli avvisi prima che scadono e anche la capacità di individuare le stazioni appaltanti o anche le aziende che pubblicano bandi per i propri incarichi vediamo a tale proposito quali sono i cinque errori in cui il professionista non deve cadere nella ricerca di incarichi professionali pubblici il primo errore è quello di monitorare saltuariamente gli enti appaltanti di suo interesse il secondo errore è non leggere con attenzione i requisiti richiesti dal bando per partecipare il terzo errore è non telefonare al recapito indicato nel bando per ricevere ulteriori informazioni o conferme dai contenuti pubblicati il quarto errore è non valutare attentamente il carico di lavoro richiesto dall'entrappaltante nel caso si vincesse il bando il quinto errore è quello di non preparare correttamente la documentazione richiesta per partecipare al bando quindi per trovare un flusso continuo di nuovi incarichi professionali attraverso pubblica amministrazione abbiamo realizzato in idrama il servizio disponibile su preventivo.info si chiama alert bandi e ti permette di accedere alla banca dati dei bandi pubblici relative a incarichi di consulenza attivi per quanto riguarda tutta una serie di settore di consulenza in tutta italia questa video lezione è terminata ti ringrazio per la tua attenzione e ti invito a contattarmi per qualsiasi informazione sul nostro servizio alert bandi mi puoi contattare attraverso i nostri siti edirama.org preventivo.info o scrivendo a info chiocciola edirama.org grazie mille